La cometa Elenin, chiamata la cometa del giorno del giudizio perché avrebbe potuto colpire il nostro pianeta e mettere fine anche alla nostra civiltà, si è disintegrata, si è fatta a pezzi, si è spezzata non appena si è avvicinata un po' troppo al sole. E' sopravvissuta solo la sua coda luminosa, fotografata da un gruppo di astrofili italiani. Ad avvistare i resti, una sorta di nube brillante di polvere e ghiaccio, è stato l'astrofilo Rolando Ligustri. La nuvola allungata, prodotta dalla polvere delle comete, è stata appunto fotografata e la vedete nelle immagini. Quindi in questa porzione di cielo avrebbe dovuto esserci la cometa tutta intera se non si fosse appunto disintegrata. Ligustri, questo astrofilo italiano udinese che segue assiduamente le comete dal 1995 ad oggi ne ha fotografate più di 140, era sulle orme di Elenin già da qualche giorno ma non l'aveva notato perché la scala d'immagine era troppo piccola. Le foto che vedete sono state scattate tra il 22 e il 23 ottobre. Si nota, come da un giorno all'altro, una normale diminuzione di segnale ed entrambe sono state fatte utilizzando un sistema di telescopi robotizzati situati nel New Messico. La scoperta di Elenin venne nel 10 dicembre 2010 e dall'astronomo russo Leonid Elenin, da qui il nome, a quel tempo la cometa si trovava a 647 milioni di chilometri dalla Terra. Ci siamo così levati un altro pensiero, non dobbiamo stare più dietro alla cometa Elenin, sperando o temendo che essa potesse distruggere il nostro pianeta. Altre minacce ci attendono, ma giusto per sottolineare una cosa vorrei dire a tutti gli amici che seguono questi video con interesse perché si parla di catastrofi, che non c'è bisogno che la catastrofe venga annunciata con tanto tempo, ma può avvenire anche adesso, può avvenire fra un'ora, fra due ore, può succedere una qualsiasi cosa nel nostro sistema solare per cui il pianeta Terra potrebbe essere facilmente distrutto in pochissimo tempo o, tutt'al più, ci resta da aspettare 5 miliardi di anni per la sua naturale fine. Magari sarà oggetto di un prossimo video. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.